Ovviamente dopo la partita di domenica, ne avevamo parlato anche qui, la preoccupazione era l'atteggiamento nelle partite seguenti. Devo dire che l'atteggiamento si vede in allenamento, purtroppo l'allenamento siamo stati falcidiati anche questa settimana, ma non per piangere da infortuni e quindi non sapevo, sinceramente l'ho detto anche al Presidente, ma sinceramente non so che partita che faremo perché non ho un test visivo o fisico di quello che poi ti porti dopo una settimana di lavoro. Devo ringraziare il lavoro di Alessandro Deio Annon perché lui e lo staff medico sono stati veramente bravi a mettere in piedi sia Leonzio che Maglini che hanno avuto due infortuni questa settimana. Spesso non ci si ricorda di queste persone e io forse è il momento anche giusto per dare un valore al loro lavoro. Quindi infortuni, quindi non sapevo che partita ci sarebbe stata. Conoscevo abbastanza bene questa squadra, ci sono ragazzi interessantissimi, un bel progetto, penso ne avete parlato con Fabio Volpato, un bellissimo progetto che fanno con la Benetton, gruppo giovane, ragazzi interessanti del 98, un progetto secondo me a lunga gittata, bello, bella cosa e soprattutto questi non sfigurano. Squadra che ha vinto due volte, ho visto le partite che hanno vinto, hanno vinto sempre con questi strappi, squadra che è la miglior tiratrice da tre punti del campionato, anche questa sera si è confermata con 50% da tre punti, ovviamente che ha le carenze e le difficoltà di un gruppo giovane, quindi gioca a sprazzi. Ero preoccupato perché queste partite sono pericolosissime, nel senso che se tu abbassi un attimo l'attenzione, poi cosa succede? Che loro ti fanno due o tre canesti, cosa che era successa a Padova, dove erano sotto anche di 23-24 punti, cosa che era successa con Lecco in casa e che dopo invece hanno vinto. Quindi una squadra temibile che secondo me ha anche tanti tanti margini di miglioramento. La mia squadra oggi ha fatto una partita attenta per il primo quarto e poi è caduta in quello che è il tranello di queste partite qua, dove non mantenendo l'intensità in attacco e in difesa e in attacco andando a tiri immediati dopo uno o due passaggi, fa sì che c'è qualche coinvolgimento in meno, un'attenzione minore e quindi di quello non sono assolutamente contento. Perché la solidità deve esserci di base e deve essere mantenuta. Un pochino meglio terzo, quarto, quarto. Abbiamo avuto una rischia percentuale di tiro che ci ha aiutato, abbiamo difeso 5-6 minuti sulle chiusure, però devo essere sincero che non è la squadra che poi ha dimostrato questa solidità che secondo me noi dovremmo avere, anche perché non abbiamo un talento eccezionale e quindi dobbiamo fare del lavoro, è la base della nostra squadra. Qual è il confine tra il fatto che siate calati e il fatto che se la gente non sale in settimana poi alla fine non può avere 25-30 minuti nelle gambe? Il confine sinceramente non lo so. Posso dirti che io posso essere, influenzare o essere parte di questo, quindi cercare il miglioramento, solo per le cose che ovviamente dipendono da da noi. Quindi io credo che se tu fai un quarto bene non sei assolutamente giustificabile negli altri quarti. Comunque abbiamo una rosa che ci dà la possibilità di avere delle rotazioni, più credo sia un fatto di attenzione e quindi il fatto di avere nel basket, nello sport, voi non so, magari queste cose non si vedono, ma a turno le squadre hanno un giocatore fuori, due giocatori fuori, si sono infortunati, le influenze. Fa parte purtroppo di quello che è un percorso. È ovvio se hai uno staff medico come il nostro, ma credo anche gli altri, hai la fortuna di recuperarli, se c'è meno attenzione o comunque ho un preparatore o c'è meno attenzione, magari li recupero un po' più lentamente. Io credo che noi, la società ci metta nelle condizioni di aver tutto, quindi pretendo che ci sia un atteggiamento diverso. E' logico che questa qua è più una cosa mentale, perché mentalmente la mente ci frega, la mente mente, quindi nel momento in cui lei può fare un po' di meno, ovviamente dice al corpo, perché devi sbatterti quando puoi un po' riposarti. E questo frega, invece i grandi giocatori e le grandi squadre, sanno stimolare ognuno individualmente, o con un allenatore, o questo aspetto mentale e quindi riescono a mantenere quell'attenzione che è da squadra che ha un carattere e una mentalità forte. La prossima settimana incomincerà a rilenarsi. Devo essere sincero, nella mia testa c'è che lui si metta a posto fisicamente, che sia a posto e poi incominciare a spingere. Non vorrei anticipare i tempi perché è un giocatore talmente importante per noi che prima deve avere tutti i bulloni, tutta la vita è a posto e poi possiamo un po' spingere. Quindi questo vuol dire che quando è pronto, quel giorno è pronto, da quel giorno comincia e si spinge. Fino a che non è pronto, ovviamente gli daremo la possibilità di recuperare. E Giuliano invece si sta allenando? Giuliano si, devo dire che ha in questo momento ne abbiamo parlato anche io e lui, lui dice sono io che gioco male, gli abbiamo chiesto perché credo che nella costruzione della squadra ci sia anche un fatto di relazioni, abbiamo avuto un colloquio di lui, penso che non posso parlare anche se sono in parte quello che si sono detti, dove mi ha detto guarda sono io che devo cercare di venire fuori da questo momento e di affrontare. Con i compagni mi trovo bene, perché io ho proposto anche situazioni tattiche o tecniche differenti, nel senso perché credo che ci sia prima un dare che poi invece chiede. Al momento lui sta lavorando per questo, al momento non siamo riusciti ancora a dare un... il Giuliano Samogia che tutti conoscono. Ah, clinicamente è proprio? Sì, sì. Cioè ne ha... ma ha sempre un problema di mettersi in condizioni perché la sua preparazione è stata sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no. C'è anche invece un momento a Rezzano che dimostra di essere un leader e anche lui è probabilmente anche un morale di questa squadra. Sì, è un giocatore che è un collante perché fa sia difesa che attacco, si prende responsabilità, partecipa e ha lo spirito positivo, coinvolgente. Devo dire che lui, Diego, Tommy, anche in questo momento anche Mattia Magrini, stanno dando una bella carica energetica positiva. Loro, fra di loro, hanno un buon rapporto. Secondo me Massimo e Diego hanno l'esperienza anche per tirarli un po' su quella mentalità che parlavamo prima. Falli crescere un po'. Senti, adesso una trasferta. E poi, parlando con buon aiuto, lui diceva, ma insomma, c'è questa partita qua di centro dove magari dopo potremmo tirare una riga e vedere insomma chi siamo con più precisione, magari fare anche discorsi di prospettiva medio termine. credo che ci sia il primo step che si è messa un po' la società per vedere come siamo e dove possiamo andare. Io sinceramente so che se mi occupo del futuro in questo momento non so poi come ci arrivo. quindi mi occupo che Milano oggi ha perso, che arriverà arrabbiata in casa e che sicuramente per rimettere in gioco la sua posizione battere noi è un bel gol. Quindi io lavorerò su questo. Mi piacerebbe sinceramente riuscire a allenarli di più, cioè avere un po' di più di qualità in allenamento perché se no questa squadra che non ha, ripeto, un talento eccezionale ha bisogno di lavorare. Quindi io penso a Milano, non credo che 100 sia la deadline, credo che sia un momento dove si può riflettere per capire. Non so sinceramente quali test se vinci, sì, li perdi, no? Io penso che voglio di allenarli, portarli in palestra, ritrovare un po' il sorriso di serenità che tutti lavorano perché comunque un atleta ha bisogno di allenarsi e poi andare a giocare prima con Milano che è una bella sfida e poi 100 ci penso la sera dopo Milano.